Buongiorno a tutti ragazzi ragazzi, ben tornato in un nuovo video Anzi sono in macchina e ho comprato un emoji, un nuovo emoji E c'è anche un altro, aspetta ve lo faccio vedere Se lo faccio vedere, se lo chiede, lo vado in due anni E non so, è carino A me piace tanto questo, appena ho visto la pianta Ah, appena l'ho fatto lì Avevo visto quel più grande ma ho preso il piccolino Guardate, comunque sto in macchina, ventaglia Ma è una pezzina giornata, appena ho deciso di scendere E non lo so Non lo so registrata, mi sono inizionata E non mi era stare in macchina, non fa niente Allora, poi quando arriva a casa le faccio Allora vi faccio Lo faccio vedere bene Ma anche se faccio le mie gambe Non lo vedi proprio Vedi così Ma in casa lo faccio vedere meglio Cerco di volerlo vedere Ah! Si Ma cosa se lo vedete bene Però quando arriva la casa lo faccio vedere bene E ora stiamo andando 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 E ora stiamo andando 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 Ancredito lì Ecco E non voglio giù E non voglio giù Non capisco Sì! ora andiamo a mangiare lo mangio tutto niente va bene ragazzi niente questo è il video spero che vi sia piaciuto dopo vi rifaccio un altro video su youtube cioè faccio un altro video su youtube che lo faccio e ciò a parte al ristorante e a faccio un video ciao